Allora, figliuolo, pronto ad aprire il tuo regalo? Ma che? È un nuovo pony tutto tuo! Ma sei scemo, papà! Io volevo l'Xbox! Non così fretta, figliuolo! Questo non è un semplice pony, dato che al suo interno c'è l'antidoto! Che antidoto mi chiedi? Beh, l'antidoto per il veleno che c'era nella tua torta di compleanno! Esatto, figliuolo! Hai mangiato del veleno! Ora scegli uccidere il pony per recuperare l'antidoto! Oppure risparmiarlo e l'esserti morire! Il tempo scorre festeggiato! Uccidilo! Buon compleanno! Beh, sembra che la lezione sia stata la fine più importante del regalo! Eh, figlio? Sono... Li dove chiede la fine più volta della la parte sia o meno! Ok, dovevo! E去, tregua! Ciao!